L'effetto del percorso, il numero 250 di San Antonio da Ostuni L'effetto del percorso, il numero 250 di San Antonio da Ostuni Ricordiamo che aveva il sesto piazzamento totale alla fine della prima match La match non è affettuato stamattina Finisce il 360, entra nella scicare conclusiva e termina il suo tempo